Amici di fan e appassionati di calcio regionale, benvenuti alla Polisportivo Stiense, dove l'Atletico Stiense ospita la capolista W3 Roma Team in questa tredicesima giornata di seconda categoria, girone di uscita difensiva il controllo da parte di De Cicco, che nello scambio il compagno si distende bene sulla destra l'Atletico Stiense, il pallone di Darino in profondità, che taglia la difesa, il tiro a centrale, rilancio lungo, spaiato questo appoggio sul calcio di punizione, ripartezza W3 Roma Team, sono 3 contro 1, il destro da fuori, Monti che botta il portiere avversario, il gol del vantaggio da parte del W3 Roma Team, che non perdona l'avversaria e si porta sull'1-0, dopo 10 minuti di gioco. Figura, arriva in anticipo, potrebbe aprire a sinistra, cerca il lancio in mezzo, a cercare Monti, Monti non è in fuorigioco, prova il pallonetto che finisce fuori. Monti scambia col compagno, poi viene lanciato in velocità nell'1-2, uno sguardo in mezzo, Monti potrebbe effettuare il cross, lo fa sul secondo palo, è arrivato Gelfusa, è arrivato il 2-0, il W3 Roma Team, che ora sembra in totale controllo della partita. Figura, sempre in posizione di play, apre a sinistra, perfetto il controllo a seguire di Mario, che si aiuta anche col petto, mette in mezzo il pallone, per Monti, 3-0, W3 Roma Team, sembra già finita la partita, grande prestazione in questo primo tempo della squadra di Gergo. Punta, 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 no Di Mario, punta, punta, quasi indisturbato, il pallone Monti da quella parte, Di Mario con la sua alapa, con il sinistro, fa tutto solo Di Mario, da per Monti, Monti potrebbe scaricare il destro, lo fa, risposta del portiere in angolo. Pisa, pasticcia un po' in area, poi frana addosso all'avversario, e il direttore di gara indica il distretto, c'è calcio di rigore. Andrà col destro e spiazza il portiere avversario, è 3-1. Ancora al centro del campo, l'apertura perfetta per Monti, fosse un po' lunga, Monti prova il testo a incrociare che finisce fuori. È buono, è buono, è buono, è buono. Atletico stia a sé sulle gambe adesso, in difesa, l'appoggio di Monti, il sinistro che finisce alle stelle, dentro l'area di rigore, cerca il compagno, l'appoggio all'indietro, il tentativo di destro, respinge il portiere in angolo, poi c'è fuori gioco. Se si prende la responsabilità di portare via il pallone, resista un fallo, 12-2, che però spiega il sigillino in porta, sigillino è uno contro uno, sigillino non si fida di saltare l'avversario, e tira fuori col destro. E su questa occasione finisce il match, il doppio Monti Roma Team vince 3-1 con l'Atletico Stiense e si prepara lo scontro diretto col Timesport Garnatella.